Alla mamma piacerebbe molto, devo raccontarglielo Ciao mamma, scusa ti ho svegliata No, facevo solo un sonnellino, Kitty, piccola mia Allora, hai qualche birichinata, qualche scherzetto da raccontare alla mamma? Certo, sai ho imparato dalla migliore, ho tirato un gelato dritto in faccia a Tatchez Un gelato in faccia? Impressionante, quella è roba d'asilo Chiamami quando avrai qualcosa che valga la pena, qualcosa che capovolga il mondo sottosopra Insomma, qualcosa che sia da paese delle meraviglie Ma, mamma, io credevo... Sì? Non ti deluderò Non ne ho alcun dubbio, sei una chesher, ciao